Le ragazze si stavano domandando chi potrebbe essere la nuova coppia che si sposerà a questo campo scuola. Eccoci siamo a Ponte di Legno, corso principale. Ciao! Lei sarà in diretta sul sito dell'Oratorio di Leno insieme alle bellezze florofaunistiche. Lo conosci? No, assolutamente. Vediamo un capannello di uomini che si accalcano alla vetrina.